Tutorial dei crunch obliqui, esercizio per il retto dell'addome che coinvolge in maniera particolare gli obliqui. Semplicemente effettuiamo un crunch con una leggera torsione laterale per portare quasi il gomito verso il ginocchio opposto. Vediamo anche dall'altro lato, è un crunch con una leggera torsione che avvicina il gomito al ginocchio opposto.